Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Toro News. È iniziata la settimana che porterà al derby di sabato sera. Quest'oggi i ragazzi sono tornati ad allenarsi sul campo e hanno iniziato il silenzio stampa. Noi abbiamo realizzato un'intervista esclusiva con Vinicio Bisioli, il preparatore dei portieri che da tanti anni fa parte dello staff di Gianni De Biasi. Vediamo l'intervista realizzata da Federico Floris. Vinicio Bisioli, allenatore dei portieri del Toro, lavora con Gianni De Biasi da tantissimi anni. Come è nata la vostra collaborazione? Questo è il nono anno che lavoriamo insieme. È iniziata a Modena nel 2000. Diverse esperienze al Toro. Quest'anno la composizione dei tre portieri, Sereni, Calderoni e Fontana. Un buon trio, un ottimo trio. Sì, non serve che lo dica io. Sono tre buoni portieri. Sanno benissimo, ecco la cosa che mi piace, che sanno benissimo tutti e tre qual è il proprio ruolo in questo contesto. Come sono strutturati solitamente gli allenamenti della settimana? Martedì e mercoledì è più orientato, ovviamente, come anche il resto della squadra, alla parte fisica, essenzialmente. Qualcosa di tecnico, la ripresa martedì, che non va mai trascurata, la presa, la deviazione, insomma la parte tecnica. Però essenzialmente è un lavoro più rivolto all'aspetto condizionale, quindi all'aspetto fisico. Poi dal giovedì a venerdì, con la rifinutura del sabato, invece è un po' più rivolta alla partita, quindi alle cose veloci, alla situazione della domenica. A fare in modo che il portiere si provi in funzione di quello che puoi andare a fare la domenica. La preparazione, in questo senso, può cambiare a seconda dell'avversario che si troverà davanti, a seconda delle caratteristiche dell'attacco avversario? In generale non cambia molto. Poi, ovviamente, ci possono essere qualche situazione, qualche settimana particolare, dove magari se l'avversario ha qualche caratteristica particolare, magari si può porre l'accento un attimino di più su quella cosa, dedicare qualcosa di più. Non lo so, faccio un esempio di una squadra che magari usa molto andare sulle facce e crossare moltissimo, perché magari ha due attaccanti bravi di testa e quindi crossano molto. Questo è un esempio. Magari, al venerdì, durante la settimana, poniamo un attimino di più l'accento sulle uscite, per esempio. Nel Toro c'è un portiere che ha grande continuità, grande affidabilità, Matteo Sereni ovviamente. Meriterebbe una convocazione in azzurro? Non devo dirlo io, ormai lo stanno dicendo un po' tutti, mi sembra, leggendo i vari giornali, sentendo l'opinione di tanta gente. Io la penso ovviamente della stessa maniera, anzi, ho letto poco tempo fa articoli dove si diceva che dietro a Buffon non c'è nessuno o cose di questo genere. Senza andare in particolari non sono esattamente d'accordo, cioè dietro ci sono dei bravi portieri. Mi lascia perplesso, per esempio, il fatto che parlando di portieri che ci sono alle spalle di Buffon, in questo momento in cui Mario non sta giocando per i suoi problemi, si sono fatti i nomi ovviamente di Amelia, de Santis, perché sono i portieri in questo momento chiamati nazionale, o di giovani interessanti come può essere Curci, che è anche nazionale o altri, e non è stato fatto il nome di Matteo Sereni. Questo mi ha lasciato veramente perplesso, non lo trovo giusto, soprattutto pensando che non è stato fatto anche da persone, da un portiere, per esempio da Peruzzi, nell'articolo che ha fatto non ha nominato Sereni, considerato che Peruzzi ci ha lavorato insieme, lo conosce, considerato il campionato che ha fatto l'anno scorso, è quello che sta dimostrando. Penso che perlomeno citare il suo nome come portiere alle spalle di Buffon era il minimo. Per vedere tutta l'intervista realizzata a Vinicio Bisioli, collegatevi al nostro sito www.toronews.net e adesso vediamo le news di giornata. È iniziata la settimana che porterà al derby di sabato sera. Reduce dalla sconfitta con il Cagliari, il gruppo Granata è ufficialmente in silenzio stampo e si è ritrovato questa mattina alla Seasport per il primo allenamento, fatto da palestra e successivamente da campo. Tanta tattica questa mattina. Mister De Biasi ha voluto provare la difesa con diversi uomini. Sembra possibile la presenza di Ogbon da titolare nel derby. Il mister lo ha infatti provato prima come centrale, poi come esterno sinistro difensivo. Dopo i pochi minuti di domenica, Rosina è pronto per riprendere la fascia nella sfida con la Juve. Il fantasista è stato schierato in allenamento alle spalle della coppia Bianchi-Amoruso, a cui il tecnico sembra voler affidarsi ancora. Per vedere tutte le altre news ed essere sempre aggiornati su quello che accade nella squadra Granata, collegatevi al sito www.toronews.net. Io vi do appuntamento a domani.